Si sono concluse le indagini della Procura di Catania nell'inchiesta sulla Costituzione della Camera di Commercio del Sud-Est, notificato un avviso di conclusione a indagini che prelude la richiesta di rinvia a giudizio per 11 indagati accusati di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico. Fino a settembre si potrà conferire a Cava dei Modicani, lo stabilisce l'ordinanza emanata questa mattina dal Presidente Rosario Crocetta, un'emergenza quella dei rifiuti per la città di Ragusa che al momento è rientrata. San Pieri, frazione balneare sciclitana nel caos, braccio di ferro tra commercianti e amministrazione comunale, sono cambiati alcuni sensi di marcia nella frazione che secondo alcuni commercianti non favorirebbero l'operato di tutti. Il Presidente della Commissione Sanità, Lars Pippo Di Giacomo, incontrerà la prefetta Maria Carmela Librizi per parlare delle sorti del NOR, Giovanni Paolo II di Ragusa, bisogna riprogrammare il trasferimento dei malati, ha detto Di Giacomo. Buonasera, ancora bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo. Si sono concluse dunque, così come avete ascoltato dai titoli, le indagini da parte della Procura di Catania nell'inchiesta sulla Costituzione della nuova Camera di Commercio della Sicilia Orientale. Richiesta di rinvio a giudizio per 11 indagati accusati di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico. Sulla vicenda intervengono le associazioni dell'artigianato della cooperazione della piccola impresa del sud-est della Sicilia. Tutti i dettagli. La Procura di Catania ha fatto notificare un avviso di conclusione e indagini per 11 indagati per falsità ideologica nell'ambito dell'inchiesta sulla Costituzione della nuova Camera di Commercio della Sicilia Orientale e quanto emerge dalla richiesta di archiviazione presentata al GIP delle posizioni del commissario ad acta Alfio Pagliario e di due dirigenti dell'ente Giovanni Brafa, Musicoro e Stefano Ali. Al centro delle indagini presunte false attestazioni, la Procura ne contesta 81 di autocertificazioni prodotte da organizzazioni imprenditoriali per l'assegnazione dei seggi consigliari nell'organismo camerale. Il fascicolo, secondo quanto battuto dall'ANSA, era stato aperto dopo denunce di diverse associazioni di categoria che si sono costituite come parte offesa. Sono rappresentate dagli avvocati Antonio Fiumefreddo, Attilio Floresta, Francesco Silluzzo e Ruggero Orrazza, che hanno annunciato opposizione alla richiesta di archiviazione. Sulla vicenda intervengono le associazioni dell'artigianato, della cooperazione e della piccola impresa del sud-est della Sicilia. Abbiamo sempre sostenuto la nostra fiducia nella magistratura, certi che le gravi criticità che avevamo riscontrato sarebbero state confermate e ampliate da indagini serie e rigorose. È necessario adesso un intervento immediato, si legge nella nota delle associazioni del Presidente della Regione Crocetta e del Ministero dell'Economia per procedere ad annullare la procedura e riavviare il percorso con regole e procedure che garantiscano rigore e trasparenza. Della resto, la proposta di revoca è stata già avanzata dal Presidente Crocetta, che si è sempre dichiarato attento alla legalità, anche allo scopo di cogliere le istanze del territorio e le opportunità della riforma Madia. Il rammarico è che si siano persi oltre due anni di tempo. Adesso è quindi tempo di recuperare, concludono le associazioni dell'artigianato, della cooperazione e della piccola impresa del sud-est della Sicilia. Parliamo di rifiuti, non vi è alcuna emergenza rifiuti, lo smaltimento è sotto controllo, lo dice il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, in una nota congiunta con l'assessore regionale all'energia Bania, contraffatto. Il Presidente ha firmato l'ordinanza con cui si dispone che la discarica di cava dei modicani riceverà i rifiuti di Ragusa e di alcuni comuni limitrofi fino a 150 tonnellate al giorno. Rientra anche se per il momento l'emergenza rifiuti a Ragusa. Il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha infatti firmato un'ordinanza ex articolo 191 con la quale dispone che la discarica di cava dei modicani riceverà i rifiuti di Ragusa e di alcuni altri comuni limitrofi, fino a 150 tonnellate al giorno. L'ordinanza avrà la durata di due mesi e dunque fino alla fine di settembre, poi o sarà prorogata o si dovrà trovare un altro sito per conferire i rifiuti della città di Ragusa o ancora ci sarebbe un'altra soluzione che è quella più auspicata dal primo cittadino, ovvero un'autorizzazione in via ordinaria da parte della Regione Sicilia che autorizzi l'impiantistica presente. Insomma, intanto per questi due mesi la città e i cittadini ragusani possono dormire sogni tranquilli. Presso cava dei modicani sarà effettuata la fase di pretrattamento con l'impianto meccanico-biologico. La frazione secca dei rifiuti andrà invece presso la discarica di OICOS a Mister Bianco. Quella umida, dopo il trattamento di biostabilizzazione di almeno 40 giorni, andrà presso l'impianto di Lentini di Sicula a trasporti. Per il presidente Crocetta dunque non vi è alcuna emergenza rifiuti. Lo smaltimento è sotto controllo, ribadiscono in una nota congiunta il presidente e l'assessore contraffatto. Una buona notizia dopo la doccia fredda arrivata ieri sera al sindaco Federico Piccitto con la notizia del Dipartimento Acqua e Rifiuti che aveva ribadito ancora una volta l'indisponibilità in tutti i siti siciliani alternativi a Cava dei Modicani di accogliere i rifiuti della città di Ragusa. Questa mattina dunque il primo cittadino si è recato a Palermo per partecipare alla conferenza di servizio convocata per l'AIA di Cava dei Modicani. Questo ci consente di uscire nell'immediato dalla situazione di enorme emergenza in cui eravamo piombati dopo che la regione ci aveva detto che non era possibile avere altri siti di conferimento. Fino a ieri sera tra l'altro io ho ricevuto una nota a firma del dirigente generale che ribadiva il fatto che non era possibile avere alcun sito e poi questa mattina durante la conferenza di servizio abbiamo avuto questa ordinanza notificata, quindi si è fatto, si è in qualche maniera recuperato da una situazione che rischiava davvero di diventare fuori controllo. Si è chiesto al lato di avere un'integrazione per poter fare un'AIA che chiuda di fatto la discarica di Cava dei Modicani in modo tale da poter avere e poi avviare post-mortem tutte le operazioni, però su questo si è riservati di rivedersi dopo un certo tempo, probabilmente sarà una settimana dalla presentazione della documentazione da parte di Iato. C'è comunque l'intenzione da parte della regione complessente di fare comunque diventare Cava dei Modicani un sito di trattamento dei rifiuti, quindi una stazione trasferente in qualche maniera con un'autorizzazione regionale che consentirebbe di continuare a utilizzare il sito ma per presattare i rifiuti. Spostiamoci a Marina di Modica dove i bagnanti tornano a lamentare la mancanza di sicurezza in spiaggia, a determinare il nervosismo tra gli ombrelloni sono le oramai famose pallonate in spiaggia. Oggi ad MTG parla una vittima, definiamola così, di un episodio davvero spiacevole. La donna ha raccontato di aver ricevuto una pallonata in faccia e adesso chiede maggiori controlli. Ce ne parla Marco Scavino. Il menefreghismo che sta assoluto che c'è in questo periodo a Marina di Modica. Cioè io non vedo divieti, mi hanno detto che adesso il divieto di gioco, giocare a palla sulla spiaggia è vietato. Ieri mattina mi sono presa una pallonata che mi ha stordito e sono ancora stordita. Sono andata dai vigili e mi hanno detto che c'è il divieto. Il divieto l'ho solo andata a leggerlo stamattina ma ci va l'occhiale di ingrandimento. E' messo in alto così in alto che ci è severamente vietato fare che cosa. E cosa è successo ieri signora? E' successo che ci sono i ragazzi che vengono da Modica col pallone per venire a giocare sulla spiaggia. Quindi ci dovrebbero essere degli spazi addibiti per il gioco del pallone. Non possono giocare sulla battiglia, lì dove la gente passeggia. Quando gli hanno detto, l'ho rimproverato e lui mi ha risposto ma noi siamo venuti per giocare a pallone, mica l'ho fatta apposta. E ci mancava pure che lo faceva apposta. Gli ho detto tu ti rendi conto che se era un bambino lo ammazzavi dalla pallonata che è arrivata. Questo dove è avvenuto? In che zona della spiaggia? Dopo lo sciale piccolo, come si chiama? Dopo Scirocco più o meno. Gli ho detto andate a giocare più in alto. E dice lì non si può giocare a pallone. Ma come non si può giocare a pallone? C'è la sabbia troppo spessa, che ne so. Ma devono capire che in spiaggia, quando c'è la gente, non devono giocare. Punto. E l'ennesima testimonianza che arriva da Marina di Modica in riferimento ad una situazione che oramai è diventata insostenibile. Ragazzi, bambini e anche meno giovani che spesso giocando a pallone, a tamburelli, a racchettoni non si curano di chi li circonda come il caso della signora che si è vista arrivare un pallone in faccia mentre era stirata a prendere il sole. Per la donna è una situazione che è sfuggita di mano. I controlli non ci sono, secondo quanto dichiara un gruppo di bagnanti a telecamere spente che sottolinea come godere del mare in spiaggia a Marina di Modica oramai sia impossibile in quanto tamburelli, racchettoni e palloni costituiscono un reale pericolo. Marina di Modica era così bella, caspita. Abbiamo fatto la casa, abbiamo fatto a speso tutti i nostri risparmi qua per trovarci che cosa? Un pugno di mosche. Non funziona? Niente. Cioè io sono una di quelle che parlo chiaro. Non c'è due vigili urbane a Marina di Modica ma che cosa possono fare questi poveracci? Solo le multe e basta. Non possono fare nient'altro. Dopo aver parlato con il comandante della Polizia Municipale Rosario Cannizzaro e con il sindaco di Modica negli giorni scorsi che avevano appunto garantito un potenziamento dei controlli nei limiti dell'organico a disposizione oggi le nostre telecamere hanno raggiunto l'ufficio di Andrea Zanghi il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Il comandante ha chiarito alcuni aspetti e soprattutto ha evidenziato come la competenza e i controlli e ovviamente le eventuali sanzioni secondo le norme regionali dovrebbero scattare anche dalle altre forze dell'ordine e in particolare tra i destinatari del documento c'è proprio la Polizia Municipale. La Capitaneria ha chiarito che il gioco in spiaggia è vietato ma attenzione, non tutti i giochi solo quelli che potrebbero costituire pericolo ad altre persone. In pratica, il pallone in spiaggia si può portare per giocare ma solo ed esclusivamente in aree attrezzate o destinate a quel tipo di attività ludiche. La Capitaneria di Porto è impegnata in questa attività con una serie di persone che a carattere giornaliero viene in giro per le spiagge a verificare la correttezza delle attività banneari. Ovviamente, ma questa non è solo una competenza esclusiva della Capitaneria di Porto. Ovviamente anche le altre forze di polizia o le polizie locali possono tranquillamente intervenire e regolamentare e facendo riferimento alla regolamentazione vigente eventualmente sanzionare qualora si arrivi alla necessità di farlo. Cosa si sente di consigliare magari a quei giovani che vogliono divertirsi al mare con il pallone? Di farlo in quelle strutture che nella provincia di Ragusa sono tante che sono attrezzate per consentire i cosiddetti giochi in spiaggia e che lo possono fare dove loro in maniera lecita e conforme alle norme consentendo a loro di potersi divertire e consentire agli altri di potersi godere una giornata di relax tranquilla in spiaggia. Come regola generale l'uso dei tamburelli, pallone e quant'altro è vietato salvo che la struttura abbia degli spazi appositamente delimitati e deputati e destinati a questo tipo di attività. Sulle spiagge libere che non sono individuate ben precise le aree attrezzate per poter svolgere questo tipo di giochi e questi tipi di giochi sono vietati. Da Marina di Modica ci spostiamo a San Pieri una frazione completamente nel caos un braccio di ferro costante tra amministrazione e commercianti questi ultimi non vogliono la nuova ZTL in quanto dicono non favorirebbe il loro operato ma solo quello di alcuni. A San Pieri non ci si capisce più niente un vero e proprio caos che mette in ginocchio attività commerciali e quanto si apprende girando per le viuzze della frazione balneare di Scicli al centro di accese polemiche per via della nuova viabilità che da quest'anno vige. Dalle 23 alle 4 non si può più accedere a San Pieri Bassa l'unico modo per raggiungere il lungomare è o parcheggiare a San Pieri Alta o accedere da quella che è diventato in sostanza il nuovo ingresso una trazzera che sbocca su una strada che a sinistra, una volta percorsa per intero sbocca nuovamente sulla provinciale e quindi in pratica consente di uscire nuovamente a destra invece, ed è qui che arriviamo alla polemica consente di arrivare solo all'ingresso di un parcheggio privato in pratica, come state potendo vedere dalle nostre immagini l'unico modo per arrivare vicino al lungomare è entrare nel parcheggio a pagamento a pagare le conseguenze di questa nuova viabilità sono anche gli operatori commerciali che non ci stanno più e proprio oggi hanno incontrato l'assessore Pitrolo per chiedere un cambio di rotta a sorprendere i commercianti anche il divieto di accesso a salire dal lungomare della via Sant'Elena che per capirci, fino a qualche tempo fa rappresentava l'unica via asfaltata percorribile per poter uscire dal centro della frazione una Sampieri blindata da transenne confusione nei cartelli stradali e molta incertezza da parte dei residenti e commercianti sulle opportunità che l'istituzione di questa ZTL possa dare oggi si è presentata ai nostri occhi che in effetti l'impossibilità di accedere alla via Sant'Elena costituisca un reale vincolo è vero in sostanza, per dirla in parole povere per raggiungere il centro di Sampieri o parcheggi nell'area privata oppure giri sempre ammesso che si possa fare visti i pochi metri a disposizione per uscire di nuovo e tornare al punto di partenza una scelta che ai commercianti e non solo non piace in quanto non concertata secondo quanto dichiarano non è stato ragionato non è stato ragionato né con gli addetti ai lavori in questo caso tutti i commercianti che siamo qui nella zona siamo in pochi ma quei pochi stessi che aspettiamo nove mesi all'anno dieci mesi all'anno per poi avere venti giorni di lavoro questi venti giorni vengono vanificati da una viabilità che non ha neanche senso è un errore con questo sistema perché sta danneggiando tutti i commercianti della zona si può fare qualcosa per migliorare Sambiere però si deve studiare prima al termine dell'incontro di oggi l'assessore Pitrolo ha preso atto del punto di vista fanno sapere i commercianti e adesso ne parlerà con il sindaco Giannone a lui l'ultima parola andiamo a Palermo un'audizione ricca di botte e risposta quella di ieri in commissione ambiente in senato dove il governatore Rosario Crocetti è stato audito in merito alla situazione degli incendi boschivi Crocetti ha puntato il dito contro lo Stato ma in contrasto al governatore sono intervenuti il dipartimento dei Vigi del Fuoco e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio sono sinceramente sbalordito dalle dichiarazioni del governatore siciliano in audizione in merito alla situazione degli incendi boschivi così il capo della protezione civile Fabrizio Curcio replica in una nota pubblicata da ADN Cronos a quanto detto da Crocetta ieri in commissione ambiente al senato come si continua a cercare di coprire inefficienze regionali dietro a fantomatiche mancanze statali non riesco a spiegarmelo aggiunge Curcio in riferimento alle dichiarazioni del governatore che lamentava l'abbandono della Sicilia da parte dello Stato e della protezione civile nazionale che non avrebbe a detta di Crocetta fatto a sufficienza per sostenere la campagna antincendio siciliana prosegue Curcio nella nota il presidente Crocetta continua a non voler comprendere che sono le regioni e le province autonome ad avere il compito di programmare e attuare le attività di prevenzione previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi il capo del dipartimento della protezione civile fa riferimento al contenuto di una norma alla 353 del 2000 legge quadro in maniera di incendi boschivi secondo la quale alcuni principi di prevenzione e intervento siano materia di un piano regionale che deve essere aggiornato annualmente conclude Curcio le dichiarazioni del presidente della regione hanno sollecitato una risposta anche dal dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile che in una nota pubblicata da DN Cronos ha così commentato gli incendi boschivi che hanno interessato il territorio della Sicilia hanno visto impegnato il corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 15 giugno scorso a oggi in ben 7500 casi nei quali sono intervenute squadre di terra per un impiego di uomini superiore a 37.000 unità inoltre il dipartimento aggiunge l'assenza di un'apposita convenzione con la regione siciliana che si aspica possa essere conclusa quanto prima non ha determinato alcuna forma di limitazione dell'impegno del corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'isola in cui peraltro da qualche giorno è stata attivata a Palermo un'ulteriore base aerea conclude il dipartimento dei vigili del fuoco durante l'audizione in commissione ambiente al senato è andata avanti per circa un'ora e mezza il governatore Crocetta ha rispedito al mittente le accuse di ritardi e inefficienza piovute addosso al suo governo nelle ultime settimane dichiarando noi la prevenzione con la campagna anti incendio la facciamo continua Crocetta il problema è stata la mancata convenzione con lo Stato per i mezzi aerei che negli anni passati abbiamo sempre pagato e avremmo voluto farlo anche quest'anno inoltre aggiunge il governatore non voglio fare lo scaricabarile ma lo Stato dopo che ci ha dato l'ok all'ultimo si è ritirato dicendo non se ne fa niente quando ormai era troppo tardi per fare le gare conclude Crocetta c'è stato un altro incendio nel giro di qualche giorno sullo scorrimento veloce Modica Pozzallo le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio di oggi alimentate anche dal forte vento la strada per qualche ora è stata chiusa al traffico già verso le 18 circa l'incendio comunque era stato domato sul posto due squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Modica una del comando provinciale di Ragusa una del corpo forestale è un altro è oltre all'elicottero della flotta aerea per lo spegnimento dall'alto interessate dalle fiamme le sterpaglie a bordo stradale sulle 194 mentre la strada era chiusa al traffico un'ambulanza proveniente da Marina di Modica con a bordo un infermo ha tamponato a causa della nuvola di fumo un automezzo dei vigili del fuoco per fortuna nessun danno alle persone e al malato che è stato trasportato in ospedale con altri mezzi sul posto dell'intervento personale della polizia municipale di Modica questura di Ragusa Anas e Polstrada i vigili del fuoco hanno poi lavorato per spegnere un incendio che ha interessato un fienile di una masseria con il supporto di un autobot in Contrada Raci a Ragusa sono tre gli scafisti fermati dalla polizia di stato responsabili dello sbarco di 426 migranti giunti ieri al porto di Pozzallo Viaggiavano su tre gommoni 426 migranti che alle 9 di ieri mattina sono arrivati al porto di Pozzallo con la nave Aquarius della ONG Medici senza frontiere gommoni guidati da altrettanti scafisti finiti in manette Omuda Ismail egiziano di 29 anni Berri Adama della Guinea di 27 anni ed Erri Junior Bommoni del Camerun di 29 anni Loro secondo i testimoni avrebbero condotto le imbarcazioni partite dalle coste libiche gravissimi rischi corsi dei migranti così come hanno raccontato in particolare per i 173 a bordo di un gommone troppe persone su un natante che ne poteva contenere meno un sovraccarico che ha messo in pericolo di vita tutti i migranti così come hanno riferito agli inquirenti i tre scafisti adesso si trovano nel carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina indagini condotte dalla squadra mobile di Ragusa con l'ausilio della Guardia di Finanza e dei Carabinieri la Polizia di Stato ha dunque tracciato anche il bilancio degli scafisti fermati nel 2017 che sono al momento 59 lo scorso anno sono stati invece arrestati 200 scafisti dalla Polizia giudiziaria inoltre sono in corso numerose attività in collaborazione con le altre squadre mobili siciliane della Polizia di Stato coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine al fine di permettere scambi informativi utili per gestire indagini sul traffico di migranti dalle coste straniere a quelle italiane il personale dell'HotSpot a Pozzallo ha proclamato lo stato di agitazione a causa del ritardo nei pagamenti dei salari lo rendono noto il segretario dell'FP CGL di Ragusa Salvatore Terranove della Camera del Lavoro di Pozzallo Nicola Colombo è stato infatti organizzato per il prossimo 2 agosto dalle 10 alle 13 un setin di protesta davanti al Palazzo di Città gli incontri avuti ad oggi in merito al pagamento degli stipendi pregressi scrivono i due segretari non ha prodotto alcun riscontro positivo sebbene la cooperativa affidataria abbia sostenuto che avrebbe proceduto intanto a liquidare i dipendenti almeno una mensilità attribuendo tali ritardi al comune di Pozzallo che ritarda a sua volta a liquidare i mandati alla Domus Caritatis le organizzazioni i sindacali non escludono il ricorso all'astensione dal lavoro se non verrà tempestivamente risolta la problematica denunciata ed è stato salvato da una motovedetta della Guardia Costiera della Capitaneria di Pozzallo un diportista che con un catamarano alla deriva veniva si trovava in balia del vento delle onde della forte corrente a circa 500 metri a largo di San Piero una segnalazione da parte dei cittadini è giunta alla sala operativa che ha subito inviato una motovedetta che ha accertato la presenza appunto del catamerano bandiera maltese incapace di manovrare che stava rischiando di finire incagliato nella scogliera nonostante le condizioni meteo marine avverse l'imbarcazione è stata affiancata e rimorchiata fino al porto di Pozzallo ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco riecosci studio parliamo di sanità il sopralluogo di ieri mattina all'ospedale Busacca per verificare i tempi di avvio degli spazi destinati alla sede satellite del centro neurolesi Bonino Puleio di Messina ha destato i commenti dell'onorevole Orazio Raguse della senatrice Venerina Padua vigileremo affinché gli impegni assunti dall'ASP7 siano rispettati sino in fondo è così che la senatrice Venera Padua interviene con una nota stampa riguardo il sopralluogo avvenuto ieri mattina nei locali dell'ospedale Busacca di Scicli per verificare i tempi di avvio della struttura il nosocomio sarà sede satellite del centro neurolesi Bonino Puleio nell'attività di neuroriabilitazione la senatrice del PD sottolinea il proprio rammarico per quella che definisce un'occasione perduta in termini temporali considerato che si partirà solo in autunno ha aggiunto la Padua già dalla scorsa primavera esistevano le condizioni per fare in modo che tutto potesse partire aggiunge la senatrice ma per una serie di motivazioni che meriterebbero di essere approfondite siamo arrivati all'estate e se tutto va bene si partirà in autunno conclude la Padua dello stesso parere anche l'onorevole Orazio Ragusa presente ieri mattina al sopralluogo insieme al direttore generale del Bonino Puleio di Messina Angelo Aliquo continuerò a vigilare a sollecitare la direzione strategica dell'ASP7 affinché la roadmap sia rispettata dichiare in un comunicato stampa all'onorevole Ragusa che aggiunge dopo anni di attese dopo una battaglia combattuta a livello burocratico l'apertura di neuro-riabilitazione consedirà di dotare il Busacca di un presidio del Cellenza avviando di fatto un percorso di riequalificazione dell'intero ospedale e aggiunge i cittadini avvertono sempre più la necessità di poter contare su una buona sanità conclude l'onorevole Ragusa il sopralluogo come descritto nei dettagli in una nota dell'ASP7 è stata l'occasione per fare il punto su aspetti tecnici logistici organizzativi dell'attività da svolgere in convenzione è stato ipotizzato l'avvio della funzionalità della struttura nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 10 ottobre tenendo conto della necessità dell'acquisto di apparecchiature dedicate sia la senatrice Padua che l'onorevole Ragusa concordono sulla centralità della struttura che agevolerà la fruizione a quanti provenienti dal sud-est siciliano sono costretti a spostarsi per un servizio di eccellenza come commenta a Venera Padua a conclusione nella sua nota l'erogazione di prestazioni di un certo tipo è la strada giusta da seguire per dare risposte sempre più adeguate alla nostra collettività conclude la senatrice del PD è un delitto tenere chiuso un ospedale come il Giovanni Paolo II a causa di comportamenti responsabili della direzione strategica dell'ASP di Ragusa dichiarare il presidente della commissione sanità Lars Pippo Di Giacomo su mandato dell'assessore regionale Gucciardi Di Giacomo dunque incontrerà la prefetta di Ragusa Maria Carmela Librizi per concordare con un paio di interventi che veda pienamente coinvolti il sindaco di Ragusa ai vigili del fuoco la procura la guardia di finanze il tribunale l'ASP e i suoi tecnici nonché l'assessorato e la commissione sanità bisogna riprogrammare il trasferimento dei malati rigorosamente senza alcuna cerimonia di inaugurazione ha detto Di Giacomo con assunzione di responsabilità dell'intera classe dirigente come avrebbe dovuto essere fin dall'inizio se non si dovesse decidere di procedere in questo senso conclude il deputato mi troverò costretto mio malgrado a intraprendere azioni eclatanti come fu per l'apertura dell'aeroporto di Comiso dalla Sicilia alla conquista dell'Italia lo farà Salvo la Rosa con il suo meraviglioso il programma condotto prodotto da Media Manager che dal 24 novembre approderà per la versione nazionale su 7 Gold versione nazionale che affiancherà quella regionale in onda su Video Mediterraneo nel 24 novembre il programma meraviglioso di Salvo la Rosa Proda sulla TV nazionale come ha annunciato lo stesso presentatore sul suo profilo Facebook si è creata una bella partnership con 7 Gold e dunque il format siciliano rompe i confini regionali per raggiungere tutta Italia e i tanti siciliani che vivono nelle varie regioni e il bel paese per la nuova stagione verranno allestite due edizioni del programma quella regionale sempre su Video Mediterraneo e quella nazionale su 7 Gold e per entrambe le versioni sono previste tante novità alle quali la Rosa sta già lavorando con gli autori e il regista è sicuramente una grande soddisfazione perché vuol dire che il nostro lavoro è stato apprezzato non solo a livello regionale ma adesso anche a livello nazionale per cui ringrazio certamente Video Mediterraneo che ci ha dato ospitalità l'anno scorso e che ci ospiterà anche nella prossima stagione perché torneremo comunque con una edizione regionale di meraviglioso su Video Mediterraneo e sul canale 11 del digitale terrestre oltre che in streaming su www.vidomediterraneo.it ma voglio ringraziare il Network 7 Gold che ci dà questa possibilità ogni venerdì dal 24 novembre di andare in onda anche a livello nazionale alle 21 con una versione certamente un po' diversa della trasmissione ma sempre legata anche al territorio siciliano perché questa volta mi piace dire è la Sicilia che porta a un proprio prodotto a livello nazionale e sappiamo bene che 7 Gold è un network che irradia il proprio segnale in tante emittenti in ogni regione d'Italia una bella scommessa che speriamo di vincere sempre con il nostro pubblico e con tanti artisti e tanti collaboratori che ci danno sempre una mano a far bene una bella scommessa che parte anche da un produttore tutto siciliano la Sicilia al 100% questo è quello che io voglio sottolineare anche in questa intervista e che mi piace fare perché l'ho sempre fatto io sono nato in Sicilia qui a Catania vivo in Sicilia ho sempre operato qui e quindi sono veramente contento che un prodotto siciliano barchi lo stretto e arrivi in tutta Italia attraverso il canale nazionale di 7 Gold per cui grazie certamente a tutti coloro i quali lavorano con me in modo particolare a Francesco Grasso questo giovane produttore siciliano che con Media Manager ha sempre investito su Meraviglioso e sui nostri prodotti lo fa anche questa volta con uno sforzo sicuramente maggiore uno sforzo che diventa appunto nazionale Restiamo a Catania c'è un servizio dell'ufficio commerciale sentiamo Con il passare degli anni diventa sempre più difficile cavarsela da soli quindi scegliere di andare a soggiornare in un residence per anziani confortevole elegante e raffinato è la scelta saggia se poi la residenza si trova in un prestigioso palazzo nobiliare che sorge nel borgo di Catania di fronte piazza Cavour edificio progettato dell'eclettico Tichera è realizzato nel 1911 con una precisa funzione sanitaria ma che avesse al contempo un gradevole aspetto la scelta è davvero ponderata e giusta ieri sera inaugurazione in grande stile della residence per anziani Catandreas Rosas dopo il taglio del nastro lo staff gli invitati hanno trascorso un momento festoso ricco di emozioni con tanto di buffet e musica dal vivo ad alietare la serata inaugurale i violinisti in jeans la residence Catandreas Rosas occupa una superficie coperta di 215 metri quadrati costa di 6 camere di ampiezza variabile disimpegnate da un imponente corridoio suggestivo il balcone che si affaccia su piazza Cavour per trascorrere i giorni della serenità senza affanni è importante optare per una struttura che sia gestita in maniera seria ed efficiente ma che sia anche rispettosa del carattere degli ospiti e delle loro individualità e ha queste caratteristiche il residence Catandreas Rosas è una formula innovativa per Catania un ambiente una location particolare per un ambiente particolare degli ospiti autosufficienti e che amano continuare a vivere la vita non come in una casa di riposo ma in una casa propria personale altamente qualificato e sempre a completa disposizione degli ospiti una psicologa assistente sociale il suo ruolo all'interno di questo contesto in che cosa consiste? nella socializzazione fra gli ospiti supporto colloqui controllo di tutte le attività da adesso il Residenza Catandreas Rosas può ospitare dei cianziani Rosa e Ina tra le assistite residenti che già si godono la struttura nobiliare concludiamo qui questa edizione di MTG grazie come sempre per averci scelto vi auguro una buona serata arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.